Benvenuti nell'ex monastero di Valmarina, ex monastero benedettino femminile, sede da qualche anno del Parco Regionale dei Colli di Bergamo. È un ente pubblico che ha sede in un edificio prestigioso, restaurato in modo, credo, molto positivo, di proprietà anche pubblica, quindi questo è un motivo di orgoglio per gli organi che dirigono questo ente. Ma devo dire che il Parco, come tutti i parchi regionali, in particolare quelli lombardi, nacque per frenare l'estensione esagerata, compulsiva, edilizia e poco urbanistica dell'ultimo dopoguerra, che aveva fatto sì che le grandi e piccole e medie città vivessero un'estensione urbanistica e proprio anche costruttiva di dimensioni preoccupanti. L'istituzione delle aree protette, in particolare dei parchi regionali, ha contribuito a frenare questo. Devo dire che nel tempo, in questi 45 anni, gli amministratori, gli addetti, i volontari, gli impiegati del parco sono riusciti a far capire e trasmettere alla popolazione, ai cittadini e alle cittadine, il fatto che i parchi regionali, in questo caso, devono essere strumenti di tutela dell'ambiente e in alcune fasi richiedono anche una certa radicalità queste scelte, ma può essere anche un'occasione di sviluppo del territorio. E credo che, avendo abbinato questi due valori, questi due concetti, si è recuperato tantissimo il rapporto con le persone, i cittadini e le amministrazioni, perché non teniamo conto che alcuni comuni hanno interamente il loro territorio nel Parco dei Colli. Io dico, quando mi dicono, ma serve, non serve un parco a potere, un parco regionale. Più che potere ha capacità di incidere e di salvaguardare, ma di produrre e di promuovere sviluppo anche economico, perché no? Dimostrando che si può crescere in modo contenuto, controllato, ma comunque piacevole e senza necessariamente spendere di più. Faccio l'esempio del mercatino che ogni sabato c'è qui, dei prodotti veramente a chilometro zero, dei nostri produttori, coltivatori e allevatori, questo mercatino ci dimostra, ma l'affluenza della gente dimostra che i cittadini l'hanno capito, ci dimostra che si può mangiare meno, meglio, bere bene, meglio e meno, senza necessariamente spendere di più e garantendo a chi difende il territorio davvero di sopravvivere, perché la filiera viene ridotta all'osso e quindi questo è un evidente, anche un evidente calcolo matematico economico ce lo dimostra. Ecco, però mi fa piacere, la cosa piacevole comunque è che su 11 comuni, poi compresa anche la provincia come ente, diciamo che i rapporti tra gli enti, tra le istituzioni e tra le persone in questi 45 anni, ma devo dire soprattutto negli ultimi lustri, ha vissuto e sta vivendo un rapporto molto virtuoso e proficuo. Il Parco dei Colli ad esempio aveva promosso il GAL, dei Colli del Canto Alto, il gruppo di azione locale e notizia di questi giorni, è avvenuto, sta avvenendo un ampliamento dei soci, quindi di un rinnovo di questa attività del GAL, i comuni presenti erano 7, saranno 19, realizzando e costruendo un'area che orizzontalmente attraversa l'area dell'interland e collinare che circonda anche la città di Bergamo. Io se dovessi, non dico, richiamare uno slogan oppure dare delle parole d'ordine, anche se sono espressioni un po' poco pacifiche, però se una parola d'ordine è positiva, dovrebbe essere questa, cultura ambientale. Non basta tutelare, non basta promuovere lo sviluppo, ma occorre non solo a partire dai più giovani, ma anche da quelli meno giovani che non hanno più memoria, di questo senso, o hanno poca sensibilità, insistere affinché si capisca che la cultura ambientale non è una sottoparte, una sottoparticella, una sottobranca della cultura, è cultura, è cultura come l'italiano, la geografia, la matematica, le scienze, la filosofia, tutto quello che volete, perché è alla base del rapporto che le persone hanno con il creato, l'universo, chiamiamolo come ognuno desidera, che, banale dirlo, è uno solo, dovremmo riconsegnarlo ai nostri figli e nipoti meno rovinato possibile, da come l'abbiamo ricevuto, in alcuni casi ci riusciamo, in altri no, ma soprattutto perché manca, credo, una regia, io la definisco ancora politica, amministrativa, che affronti i temi perlomeno di una provincia in modo univoco e non affidando ai vari contributi, ai vari insediamenti, offerte di installazioni di capannoni, di logistica, eccetera, eccetera, però qui entreremo in un tema molto complesso e molto complicato e che non spettano di risolvere. Io quando appunto mi dicono anche se conviene, do un dato, nei comuni che fanno parte del Parco dei Colli ci sono delle aree sottoposte a un controllo più fermo del Parco dei Colli e altri che sono di iniziativa comunale, cioè un comune ha delle zone in cui può più o meno fare quello che vuole, diciamolo così, e in altre invece deve sottoporsi a dei vincoli, dei controlli e al controllo sovracomunale del Parco dei Colli. Ebbene, negli ultimi 25 anni circa, dove il comune può fare quello che vuole, più o meno, il consumo del suolo è stato del 90%, dove il Parco a voce in capitolo del 9, quindi già 90 e 9 ci possono far capire che se uno ama l'ambiente, ma non solo per sfizio così culturale piccolo-borghese, ma per convinzione di sopravvivenza, basterebbe questo dato per stabilire che. E appunto i comuni che fanno parte del Parco dei Colli, adesso dimostrano, possono dimostrare che è stata un'opportunità. Adesso noi siamo contenti e tutti soddisfatti di avere chilometri di piste ciclovedonali, chilometri e chilometri di sentieri, se non ci fossero stati amministratori che hanno fatto scelte difficili, complicate 45 anni fa e poi successivamente quelli che sono arrivati dopo, non avremmo questa fortuna e questo patrimonio. E altro particolare che dimostra che ci conviene mantenere, difendere e tutelare quel patrimonio, quella fortuna che abbiamo qui intorno a noi, ormai la biofilia è una scienza accreditata e dimostra che qualsiasi individuo, soprattutto i bambini, dopo 20 minuti, in quarto d'ora che è immerso nel verde, vive meglio, cioè la sua testa, la sua mente e il suo corpo funzionano meglio, basterebbe già questo per dimostrarcelo, che realizzare e creare parchi regionali che quindi abbiano anche una forza politica, amministrativa è la scommessa principale dei prossimi anni. Allora ecco, adesso avremmo anche un'altra ambizione che riguarda il turismo, o meglio, la possibilità di vivere il territorio in cui siamo immersi, in questo capolavoro, in questi 5.000 oltre ettari, che sono molto antropizzate ma presentano anche realtà di grande importanza naturale, naturalistica, di biodiversità. Ecco, vorremmo compendiare queste meraviglie, queste bellezze con la possibilità di promuovere un turismo che non sia necessariamente necessariamente mordi e fuggi solo perché uno transita all'aeroporto, vicino all'aeroporto di Oriol Serio e non sa come passare quel paio d'ore. Secondo me, per chi viene da fuori, ma anche e soprattutto per chi vive qui nel nostro territorio, c'è la possibilità con le infrastrutture, le strutture e le bellezze che noi abbiamo, è possibile, dico, vivere una forma di turismo più lenta, più tranquilla e che non necessariamente duri tanti giorni ma che consenta di passare in questi luoghi, in queste meraviglie fatte di opere d'arte e di opere naturali senza fretta appunto ma conservando dentro di sé qualcosa che qui esiste e che è segno del lavoro dell'uomo e della donna e anche quello della natura. Quindi creare delle forme dei siti, anche forme di attrazione ma offrire anche delle possibilità alternative perché credo che le persone e anche i turisti, sia quelli turisti veloci o turisti anche più sostanziali, possano unire la bellezza del territorio con i valori culturali che questo territorio esprime.